La modernità è riempimento del vuoto, ma riempimento con accidenti, trasformati in sostanze, per cui in Africa ci sono dei neri. Il caso vuole che noi siamo più organizzati di loro, possiamo muovere guerra contro questi e dominarli. Ma questa cosa non la puoi dire, devi dirla in modo diverso. Devi dire che in Africa ci sono dei neri che sono inferiori a noi, è nostro compito, è nostro destino accettare questa differenza sostanziale e qualitativa e andare a farci delle colonie. In Africa c'è una razza diversa. Razza è il nome di una sostanza naturale che poniamo in essere per dare il nome a un accidente, una contingenza. Se ce la teniamo come contingenza e ci sentiamo troppo debole, dobbiamo invece darne un nome sostanziale. Lo Stato come Stato è troppo debole, dobbiamo dire che è uno Stato pieno di natura, cioè nazionale. Poiché non sia vero che la nazione sia il costrutto dello Stato e non lo Stato il costrutto della nazione, questo non si può dire. Bisogna dire che c'è una nazione lì bella pronta e che attende soltanto di prendere una forma politica, di divenire Stato. Scusate, ma questo lo fa C.A.I.S. quando sta preparando la rivoluzione francese praticamente, quando dice c'è la nazione fatta di uguali. Occhio, gli uguali politici, disuguali socio-economici, ma questo diventa irrilevante, cioè questo è un fatto accidentale. E poi c'è la nazione e dentro c'è un'accidentalità che per lui è ancora veramente importantissima, cioè della gente che non si sente parte di quella nazione, si sente superiore. E i nobili li qualificano. Mentre il ricco e il povero sono dequalificati, sono tutti due cittadini, il nobile è qualificato. È la qualità di essere un diverso, cioè di appartenere a un'altra razza. Questa è la costruzione di una razza, cioè si prende un accidente in uno spazio dove ci sono solo accidenti, si prende un accidente e lo si fa sostanza. Per noi riserviamo lo spazio vuoto, liscio, razionale, dove siamo tutti uguali. Anche questa è una costruzione, come voi capite evidentemente, costruzione potentissima. E al tempo stesso una coazione, non si può vivere diversamente che inventandosi questa cosa qui in età moderna. È insostenibile mettere che i nobili sono essi stessi una contingenza. Devi dire che sono una qualità, per di più, inferiore. Come lo dovrai dire di lì a po' dei proletari. Sono una qualità inferiore, cioè sono i sovversivi. Cambi un attimo il registro e vuoi tenerli dentro, quei sovversivi, perché capisci che sono troppi, allora devi dire che c'è qualcuno, una qualità inferiore, minoritaria, che è sovversiva. Saremo gli ebrei. Questo è il modo di funzionamento della modernità. E appena qualcuno viene a dire che c'è la cittadinanza artificiale, ma c'è un problema, perché i ricchi e i poveri sono un problema, allora gli si risponde che non sarai per caso un sovversivo. Non avrai per caso una qualità di totale differenziazione, di totale straneità al nostro gioco, che non ti puoi permettere di definire gioco, perché è, a sua volta, natura, perché noi siamo la nazione. Cioè dire che lo spazio moderno è vuoto è quasi impossibile. Bisogna dire che è pieno di cose buone, contrapposte a qualche cosa di cattivo. Oggi dire che la questione ecologica è una questione al tempo stesso reale e artificiale non è semplice. È reale perché è reale, è artificiale per come viene posta. È reale perché il Covid infierisce dove c'è il più alto tasso di inquinamento atmosferico di nanoparticelle, ci sarà un motivo. Poi, quando si tratta di sciogliere questo problema in modo analitico, diciamo, e lì si va sulla qualificazione. Allora ci sono i buoni e i cattivi. Questo è il mio modo di fare critica. Cioè di portare alla luce le strutture profonde, non gli accidenti, le strutture profonde che sono cose profonde che non si vedono. Una di queste strutture profonde è quella che ci dice siamo in uno spazio vuoto, in un tempo vuoto, ma che non vuol dire omogeneo, vuol dire pieno di accidenti. E la partita la si gioca appropriandosi degli accidenti chiamati buoni e stigmatizzando gli accidenti chiamati cattivi. Razzializzando i poveri o razzializzando il nemico. Demonizzando il nemico. Dicendo il nemico è pure antidemocratico. Noi democratici, lui antidemocratico. Che lui sia antidemocratico è probabilmente vero. Che noi siamo democratici insomma. Che noi siamo democratici.